Scandalo Castello Maniaci e Tusa, il manufatto è invasivo. Ci siamo, confermata la difformità del manufatto nell'area del Castello Maniaci. L'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa è chiaro, si impone la rimessa in ripristino. Vanno confermate le opere al progetto autorizzato. L'esito dell'espezione della regione riguarda la cherella Maniaci a Siracusa è bella e pronta. Gli ispettori inviati poco meno di un mese fa dall'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa hanno riscontrato difformità rispetto al progetto originale. E lo stesso assessore a comunicarlo dovrà essere eliminata la piattaforma in cemento e abbassato di mezzo metro l'opera denunciata come la più invasiva. Il caso è quello della piazza d'armi antistante del Castello Maniaci nell'isola di Ortigia. Su di essa è in atto un'opera di riqualificazione denunciata da diverse associazioni ambientaliste come un abuso nei confronti del patrimonio archeologico e paesaggistico. Dall'inchiesta, sollevata lo scorso 28 giugno dal quotidiano Libertà, redatta da Italia Nostra, Tusa volle vederci chiaro. Il suo dirigente Sergio Alessandro nominò tre ispettori. Riccardo Guazzelli, sovrintendente del beni culturali di Trapani, Daniela Mazzarella, dirigente del servizio tutela, e Stefano Biondo, direttore del centro regionale del restauro. Il loro mandato è verificare eventuali discrepanze tra quanto autorizzato e quanto realizzato. Da ieri mattina siamo in possesso della relazione dei tre ispettori e ci sono un paio di difformità rispetto al progetto originale. La piattaforma di cemento non era prevista e poi difformità nell'altezza 50 cm in più di quanto previsto. Adesso il Dipartimento emetterà ordinanza attraverso la subintendenza locale con cui obbligherà i privati a confermare e conformare le opere al progetto autorizzato. L'area a ridosso del castello federiciano è di proprietà del demanio dello Stato. Con un bando pubblico è stata affidata per 12 anni a una società privata per poco più di 170.000 euro, 1.230 euro al mese. Il progetto di riqualificazione prevede, tra le altre cose, la costruzione di un ristobar che è la struttura che, secondo gli ispettori, dovrà essere abbassata. 70 metri quadrati di opera per 4 di altezza, secondo il progetto. I seracusani l'hanno ribattezzato l'astronave quando ha cominciato a vederci dall'esterno del sito. Tra le prescrizioni dettate all'inizio della subintendenza che erano finite nel decreto con cui il Dipartimento autorizzava il bando c'era questa, che le eventuali strutture da installare siano temporanee e abbiano i requisiti di reversibilità e che siano di dimensioni tali da non invadere la visuale prospettica del castello Maniaci. Da qui la contestazione su piattaforme di cemento e altezza. Al centro delle polemiche scoppiate nella città di Dusea erano finite le autorizzazioni della subintendenza e i successivi nulla a osta dell'ufficio comunale preposto preseduto al suo tempo dall'attuale sindaco Francesco Italia. Sin qui il lavoro degli ispettori. Poi, secondo le parole dello stesso assessore Tusa, il subintendente a Inter, il Micologio Rizzuto, che nel frattempo è succeduto a Rosalba Panvini, avrebbe anche riscontrato uno sforamento nell'ambito del demanio marittimo. In questo caso sarebbe occorsa la richiesta di autorizzazione al demanio marittimo, cosa che non è stata fatta. Infine, sempre secondo il riportante da Tusa, nell'area in questione di 5.000 m2 operatici sarebbero quelle che il Catastro identifica come zone bianche, ossia zone segretate militari. Il demanio in questo caso avrebbe dovuto richiedere autorizzazione al demanio militare, ma è tema che riguarderebbe il Comune e non la subintendenza che si occupa di tutela. Ora intanto si impone il ripissimo di quanto già realizzato. Sono contento del risultato, commento Tusa, perché nella mia posizione avevo l'obbligo di ascoltare tutti, ma a tenermi a atti e documenti. L'amministrazione ha reagito in maniera ponderata senza farsi tirare la giacchetta da alcuno, visto che a Siracusa c'era un rischio di speculazione politica sulla vicenda. Come ci sono, va detto, anche associazioni in buona fede. Abbiamo scelto una linea che ci ha permesso di agire in maniera equilibrata e prendere provvedimenti nel rispetto delle regole.